Con Giovanni Terenzi, la Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, parliamo di economia. Per rappresentare il rapporto chiediamo lo stato di salute dell'economia locale. Il rapporto che viene presentato oggi è relativo all'anno 2011 e sostanzialmente fotografa una situazione non positiva, legata alle molte difficoltà che la crisi internazionale in questi ultimi anni ha provocato. Nel caso specifico della Repubblica di San Marino, queste difficoltà si acuiscono in funzione della criticità delle relazioni con la Repubblica italiana. Queste criticità che a tutt'oggi ancora non sono state completamente eliminate. Comunque il rapporto presenta anche degli elementi di positività. Uno su tutti che vorrei evidenziare è la capacità, la dinamicità dei nostri imprenditori e delle nostre imprese di essersi in questi anni in grande difficoltà, destreggiati in maniera molto positiva sui mercati, riuscendo a mantenere i livelli di occupazione e di competitività adeguati, dando quindi anche prova che nel momento in cui si ripristinassero le condizioni e venissero di nuovo a ripresentarsi gli strumenti idoni, gli strumenti idoni per poter ripartire, gli imprenditori in Repubblica ci sono e sono pronti a fare la loro parte. Grazie. 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 Grazie.